FEDE LA MERDA FEDE LA MERDA FEDE LA MERDA D'OCCHI CHIUSI Senza guardare SIGLA! Ma perchè non c'è la sigla Questo è un format nuovo ragazzi Che format è? L'hai creato tu questo format Si perchè non avevo voglia di lavorare Ho detto fallo fare agli altri E invece l'ho interpretato in un'altra maniera Non voglio più delle luce Io non c'ho più voglia di fare un cazzo E due anni quasi che siamo qua Non abbiamo sbordato un cazzo Siamo ancora che ai pezzi al culo Allora fatele voi le cose che siete più bravi Fatele voi e non mi rompete il caccio a me Allora io invocherai Julian Com'è che si dice? Non lo so è rumeno Giuliano! Mi fai questa classifica Felice regresso figli della merda Io sono Julian Damok E siamo qui oggi per parlare della top 5 Delle peggiori fanbase nel rap italiano Perchè dovete sapere che peggio dei rapper Non soltanto i loro fanbase accanete Diamo quindi inizio a questa top 5 Al quinto posto ci piazzo la fanbase di Sfera e Basta Perchè con l'uscita dell'album Rockstar Da lui definito il disco dell'anno E soprattutto dopo essersi auto incolonato Tra King i suoi fan sono convinti del fatto Che non si possa muovere neanche una minima critica costruttiva O una riflessione Per quanto riguarda la vuotezza e la pochezza di certi suoi testi Ma soprattutto se si osa sottolineare Come la ricchezza di cui tanto si vantano Sia la cosa essenziale o fondamentale Per lo sviluppo di una buona vita Si passa automaticamente dalla parte dei frustrati In quanto lui è uno che c'era fatta E riuscito a guadagnare E noi siamo qua a casa a fare niente Al quarto posto ci piazzo la fanbase di Mezzosangue Perchè dopo i tre anni di attesa Tra l'uscita dei suoi ultimi album Ma soprattutto dopo le vagonate di meme Che il web ha diffuso La gente ha cominciato a credere Che quest'artista sia diventato una sorta di divinità Non che non sia bravo Ma se qualcuno osa proferir parola Magari per quanto riguarda una traccia Leggermente sottotono rispetto alle altre Del suo nuovo album Diventa automaticamente un imbecille di settore Quindi pare che il tempo di attesa Tra un album e un altro Sia diventato direttamente proporzionale All'intoccabilità dell'artista Al terzo posto ci piazzo la fanbase di Capo Plaza Perchè il ventenne che ha raggiunto numeri astronomici Ed è stato spinto in tutte le maniere possibili Su tutte le piattaforme possibili e immaginabili Ha creato ed ha centrato su di sé L'idea che con un'età davvero così modesta Abbia fatturato davvero molto Ed è anche effettivamente così Però i fan autonominati I suoi portavoce Sono attualmente dell'idea che Per quanto riguarda una giovane età Ed un guadagno così grande La sua divinizazione E quindi guai a dire qualcosa contro di lui A muovere anche una critica costruttiva Sia veramente una figura di culto Se non addirittura da divinizare Medaglia d'argento e qualcuno forse Non se l'aspettava per Yang Signorino Perché nonostante questo personaggio Sia uno dei portatori sani Più trash veramente del web Ma soprattutto anche tra i più odiati del 2018 Per la visibilità che ha ottenuto Sotto qualsiasi suo contenuto Perché veramente i suoi video Sono arrivati a numeri alle stelle Ci sono anche tutta una serie di fan Che non mancano mai a rappello Convinti del fatto che Yang Signorino paradossalmente Stia portando una nuova onda Una nuova wave Di contenuti nella musica italiana Che probabilmente Darà un po' di freschezza A questa scena musicale Al primo posto ci piazzo La fanbase di Biondo Perché l'utilizzo dell'autotune E delle sonorità trap Da parte di questo ragazzo Nel Talent Amici Ha dato l'idea a tutte le ragazze Tra l'altro innamorate Della sua icona Non solo di essere delle esperte di trap Ma di poter criticare chiunque Oggi dire qualcosa Nel mondo dell'hip hop Ma soprattutto qualcosa contro di lui In quanto Magari queste persone Sono esperte O ne hanno a che fare Da un po' più tempo Comunque Strano che Nessuno parli Della gaffe in live Di Biondo In cui Durante un concerto Quelli sono caduti i pantaloni Ma giustamente Non si può Alzare un dito Conto un tale mito Satira Se volete un'altra Top 5 ragazzi Lasciate il like qua sotto E scrivete nei commenti Le vostre peggiori fanbase Noi ci rivediamo Un saluto da KadeBoy Un saluto a tutti Buono ragazzi Beh sicuramente Aveva il suo da dire E io mi trovo abbastanza d'accordo E ce n'erano un paio che ho tremato Scrivete qua sotto Il prossimo che volete La prossima Claplope Perché parli come youtuber dei ritardati? Abbiamo i favij Allora No per questo non vogliamo dire che favij No per questo non vogliamo negare che favij sia un bravo youtuber No è bravissimo E questo lo diciamo perché non vogliamo essere messi Lo diciamo per motivi legati Dovete scrivere il nome dello youtuber E l'argomento della classifica Non dovete scrivere cose a caso Ritardati figli della merda Volevo fare come favij per capire le cose Sabetta Nel Upper S75 S?A SA SAAa S.A Ciao Favi Nel tuo Nicola Favi Nicola Fava Chiudi